L'omicidio in ambito familiare. Questo è il titolo del convegno che si terrà giovedì 11 giugno presso il Palazzo di Giustizia, Aula Giorgio Arcoleo. In questi ultimi anni, in modo maggiore che nel passato, la cronaca nera italiana è stata fortemente caratterizzata da omicidi avvenuti in ambiti familiari. Un tema dunque più che mai attuale, ma allo stesso tempo difficile da trattare. Ad aprire i lavori sarà il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, Walter Pompeo. Parteciperanno Carmelo Rinaudio, psichiatra forense, Fabrizio Siracusano, docente dell'Università di Catania e il generale Luciano Garofano, biologo forense e per anni comandante del reparto Investigazioni Scientifiche di Parma. Moderatore dell'incontro, l'avvocato Giuseppe Fiorito, criminologo forense. Questo tema è stato affrontato in maniera molto assidua da parte della criminologia attuale. Ovviamente cercheremo di affrontare una problematica che è quanto più mai attuale e cercheremo di affrontare sia l'aspetto di natura psichiatrica che quello processuale. Infatti il professore Siracusano si occuperà di assumere la testimonianza da parte dei minori e affronterà questa problematica e il generale Garofano affronterà la problematica appunto dell'assunzione delle prove in ambito omicidiario e familiare. Ovviamente si parlerà di questi eventi di omicidi in ambito familiare, nello specifico lo definiamo anche come omicidio di prossimità, per meglio specificarlo, proprio tutta quella serie di omicidi quali uxoricidi, figlicidi, infanticidi che avvengono nell'ambito familiare. Una tematica sicuramente attuale. Grazie.